L'Atletico Gela si scrolla di dosso l'amarezza dopo la brutta eliminazione della Coppa Etaria e la sconfitta patita nel turno precedente sul campo della Sicura Leonzio. Un 7-2 che non lascia spazio a dubbi ed interpretazioni, quello rifilato ieri dalla squadra di Simone Pardo alla città di Catania. Gelesi che hanno praticamente dominato il match e che hanno lasciato il campo tra gli applausi dei tifosi giunti sugli spalti dello stadio comunale del Presti. 3-0 dopo 20 minuti di gioco, 4 gol alla fine del primo tempo e gara praticamente chiusa dopo 45 minuti di gioco. A firmare il successo ci hanno pensato la rete di Fiore, la doppietta di Garfi e del giovane Biundo e poi Scerra e Leone. Una gara senza storia che proietta i gelorossi a meno 2 dalla vetta grazie al pareggio fuori casa della Leonzio con il Pachino. E domenica prossima derby con il Gera Calcio. È merito nostro che abbiamo fatto questa vittoria ed è stata un'idea importante. Ora andiamo avanti per la nostra strada e ci prepariamo per il derby di domenica alla grande. Dopo una settimana così travagliata diciamo che i ragazzi hanno dimostrato il solito carattere, la solita voglia di vincere le partite e quindi abbiamo fatto questa buona prestazione con il Città di Catania. Ora si pensa al derby con il Gela Calcio. La squadra Atletico Gela come già avete visto è stata costruita quest'anno proprio per dare una svolta al campionato che è in essere. E che comunque l'Atletico Gela avrà anche progetti importanti per un altro anno dalla quale quest'anno è stato costruito proprio per dare un senso a questo campionato. I derby vanno giocati sempre, secondo la mia opinione, con la massima trasparenza e la massima lealtà perché comunque stiamo parlando che sono due squadre della stessa città, due cugine, Atletico Gela e Gela Calcio che comunque hanno un sapore di storia sia il Gela Calcio che anche l'Atletico Gela deriva da altre società e quest'anno comunque l'avete visto bene, sta facendo il proprio cammino. Quindi che venga la massima trasparenza, l'amicizia in campo e la massima lealtà soprattutto.